Ciao! In questo video siamo appena saliti sulla funicolare di Capri e percorriamo il tragitto dalla fermata della piazzetta di Capri a Marina Grande. Hi! In questo video just got on the Capri funicular and we see the route from the piazzetta di Capri funicular stop to Marina Grande. La funicolare è molto comoda perché collega in pochi minuti questi due punti dell'isola. The funicular is very convenient because it connects these two points of the island in a few minutes. Marina Grande è proprio dove arrivano i traghetti e le barche che collegano Capri alla costiera Amalfitana e Sorrentina. Marina Grande is where the ferris and boats that connect Capri to the Amalfi costa arrive. Amalfitana e Sorrentina. Amalfitana. Grazie a tutti. Siamo ora arrivati a Marina Grande. Non mi resta a questo punto che salutarti. Mi raccomando però seguici. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao! We have now arrived at Marina Grande. So I have to greet you. But please follow us. See you in the following video. Bye! Grazie a tutti.